Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha E chi ha da mangiare faccia altrettanto Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare E gli chiesero Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato Lo interrogavano anche alcuni soldati E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno Accontentatevi delle vostre paghe Poiché il popolo era in attesa E tutti riguarda Giovanni Si domandavano in cuor loro Se non fosse lui il Cristo Giovanni rispose a tutti dicendo Io vi battezzo con acqua Ma viene colui che è più forte di me A cui non son degno di slegare i lacci dei sandali Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco Tiene in mano la pala per pulire la sua aia E per raccogliere il frumento nel suo granaio Ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo Parola del Signore Questa domenica è la domenica della gioia La gioia perché si sta avvicinando la festa del Natale Ma la gioia soprattutto perché come dice il profeta Sofonia Nella prima lettura di oggi Noi siamo la gioia di Dio Il Signore ha revocato la sua condanna La tua condanna ha disperso il tuo nemico Ecco, rallegrati perciò figlia di Sion Perché? Qual è la fonte della gioia cristiana? Non le cose che vanno bene Perché le cose non vanno sempre bene Lo sappiamo tutti Ma il cristiano è nella gioia Nella serenità perché? Perché si sente amato Perché tu sei la gioia di Dio E proprio per entrare nella gioia del Signore Per essere la sua gioia Oggi ascoltiamo di nuovo la voce di Giovanni Battista Una voce molto concreta Una voce che indica delle strade percorribili Per preparare la strada al Signore Come diceva domenica scorsa La gente va da Giovanni e dice Che cosa dobbiamo fare? Ecco, anche noi lo dobbiamo chiedere al Signore In questo tempo Signore, che cosa devo fare per preparare il tuo Natale? E per prepararmi alle tue venute? Che cosa devo fare? E Giovanni risponde Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha Chi ha da mangiare faccia altrettanto E quando ci vanno i soldati E quando ci vanno i pubblicani E gli chiedono E noi che cosa dobbiamo fare? I cattivi del tempo, no? I soldati che occupavano la terra I pubblicani traditori della patria Che riscuotevano le tasse per conto dei romani E Giovanni che cosa gli dice? Fate la giustizia Accontentatevi delle vostre paghe Non maltrattate Non fate violenza Siate onesti Ecco, vedete come Giovanni ci indica delle strade concrete Dare Chi ha due tuniche ne dia una Chi ha da mangiare dia Dare, come dice Padre Ronchi sempre È la traduzione del verbo amare Chi ama dona Non solo le cose materiali evidentemente Dona Dona il suo tempo Dona il suo sorriso Dona il suo ascolto Dona il suo servizio Dona il suo perdono E si comincia dalle cose Dalle virtù umane appunto Essere corretti Essere onesti Essere precisi Nel lavoro Negli impegni Nelle relazioni Essere trasparenti Ecco allora Ci apriamo a colui Che battezza in Spirito Santo E fuoco Ci apriamo a colui Che davvero cambia la vita E ci farà diventare Buon grano E non pula E non paglia da bruciare E non gente insignificante Ma figli amati Che rispecchiano l'amore del Padre Nella loro vita Che rispecchiano l'amore del Padre Che rispecchiano l'amore del Padre